ciao raga fischia che freddo fa freddo vento nulla questo è il blocco che avete visto nel video ho lasciato l'albero originale tutto i carter originali però io ho montato un 43 polini ho montato un 43 polini ora rimonto lo statore come avete visto sempre nel video io ho rifatto i cavi qui ora si mette i morsettini e bella posto si rimonta e chiuso ora io vi faccio vedere come gira un pistone dentro il cilindro così non è non reggerebbe nemmeno il minimo il minimo sarebbe così o quando si va a manetta questo sarebbe un 50 e qui un 65 guardate dentro si vede le luci si vede l'aspirazione ora però onde evitare si lubrifica un po perché sennò il motore ovunque deve girare così bellino 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 che si deve far raga qui siamo siamo guarda allora questa non la possa venire a riprendere e anche se sta a 30 km qui non può venire a riprendere questi due sono di cuneo e non ne può venire a riprendere di lasciano un altro non lo può venire a riprendere io mi riempio di roba perché con questa crisi crisi coronavirus non ci si può spostare da nessuna parte quindi io mi metto qui come avete visto laggiù c'è tutti i motori che ho fatto i carter da finire ora io ho finito i cilindri ho finito ora vabbè questo ci metto la sussestata polini bellina bellina si richiude e un altro blocco fatto ora mi è rimasto due cilindri originali facciamo questi due e dopo che fa? cosa fai dopo Mire? e dopo farò blocchi della Vespa e quelli i pezzi ce l'ho va bene raga un abbraccio a tutti comunque io voglio ringraziare voglio ringraziare perché oggi vi spiego una cosa allora ho pubblicato un video era il computer da Titti Titti Tittolina iscrivetevi sui suoi Instagram Titti Tittolina perché manda delle cose sempre da ridere bellina ne manda 10.000 giorno eh raga però iscrivetevi davvero e nulla io ho detto Titti appena io pigio in via pubblica te guarda sul telefono e metti mi piace oh io ho fatto vado vai io ho fatto lei ha preso il telefono due dislike se mi piace raga ma come fate ad essere così veloce ma più che altro come fa quello che metti dislike ad essere così veloce ma cioè io mi domando e dico ma chi te lo fa fare ma chi te lo fa fare di stare a stressare perché cosa ci guadagni ma ci guadagni di più se tu chiedi la mia amicizia almeno ti mando l'arcadesivo siamo amici no ti guarda per essere così va bene sì così contento te contenti tutti fischia ciao raga ciao ciao